Da anni in Italia gira la moda di fare le reaction alle prove a non spaventarti e molto spesso le reazioni dei youtuber sono, possiamo dire... Ecco, quindi mi sono chiesto, fanno veramente così paura oppure le reazioni dei youtuber sono soltanto esagerate Per rispondere a questa domanda ho comprato un contabattiti che segnerà quanti battiti al minuto ho Ovviamente più aumentano più paura Guardate tutto il video fino alla fine perché alla fine ci sarà una sorpresa per voi Vi spiegherò la risposta alla domanda e vi chiedo di guardarlo tutto per dirvi qui sotto nei commenti se voi hanno fatto paura oppure no Metterò il cuore a chi lo farà Vi ricordo anche che soltanto il 7% delle persone che guardano i miei video sono veramente iscritte Quindi se ti piace questo video considera l'opzione di iscriverti È gratis e come obiettivo ho i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e l'iscrizione è il miglior modo per un utente per supportare il proprio youtuber in modo completamente gratuito Ora basta con le chiacchiere e incominciamo Ok numero 1 No già 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 Vabbè va bene va bene Cerchiamo di Di calmarci ecco Io qui ho il contabattiti collegato con obiettivo Cosa era quella Ok quello era una minchiata L'ha fatta con Con premier È un effetto ragazzi Non Quello è un effetto si capisce da un miglio Però comunque Ah ma che cazzo è il numero 2 Va bene La porta Arriva dal profondo web Cosa si chi è la porta Sì Oh oh statti calmo Vai via Ecco Torna nella tua tana da coniglio A tremido E torna di là Eh che cazzo E va a te ne ti ho detto Eh vai via Ecco Oh Te ne devi andare Via Ecco Bravo coniglio Dio No 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 Cosa Perché dobbiamo fare questa cosa Perché Cos'è una marionetta Che cosa Dovrebbe Finito Vabbè Che cosa sta La qualità del 2000 2011 Non c'è manco il mio telefono Del 2002 Con sta qualità E la sedia si muove E non succede niente Quindi dovrei scagarmi addosso Perché una sedia si muove La sedia si muove Un'altra volta Ah La sedia si è mossa E se n'è accorto Se la sedia si muove Chi sarà stato Magari è stato No non è se scappiamo Perché fa bene scappare ok non devo più sottovalutarli però comunque mi ero paura della scorsa volta ok e cosa mi dovrebbe significare eh quindi non ho capito cosa dovrebbe significarmi ciao bella donna eh si ciao slenderman minchia sei cresciuto non ti vedo da anni schermo blu ce l'ho fatta quanto sono forte hashtag 1 number 1 ok siamo in una stanza con un cuscino che sicuramente si muoverà scommetto che si muove il cuscino oppure le porte si aprono si battono da soli la luce blackout cazzo perché la luce lampeggia ma non è che ma che era cazzo aveva in coso la cazzo di respiratore ma what the fuck eh che è certo la porta era ovvio che si apriva e mo si richiude mo risbatte oppure esce un mostro che ti ha amato ah c'è un mostro non spunta voglio fare jumpscare è la fine è la fine è la fine ah due ah pensavo ci fosse il jumpscare finale tipo che arrivava il mostro no bambino bambino e vabbè dovrebbe far paura ma perché ma è una di quei di quei cazzo di video che mandano su facebook coi filtri facciali perché dovrebbe far paura quella ma cosa dai eh ciao nonna scusa eh lo so ma non avevo fame no dai no dai per favore non mi picchiare e vabbè e questo video sarà demonetizzato perché ovviamente si ma non mi lamento certo però nonna vattene ah di nuovo no ti ho detto vattene oh non ho fame ma vattene vai ma che cazzo urli eh sì ah 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 che ridere cazzo ma non mi importa di vedere quanto sono belli i tuoi occhi ma vai via vai via ma che cazzo no vai via che cazzo stai facendo vai via ti ho detto adesso è ancora qui e va bene che cazzo fai no ok numero 4 ho skippato perché se no eh adesso arriva uno e lo investe già questa clip mi sa che l'ho vista eh adesso ah no c'è Samara ciao Samara minchia scappa scappa no scappa 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 ma che cazzo fai ma che ma sboblesci e scappa dal mondo che cazzo fai in macchina ok numero 5 vabbè minchia si vede tutto si vede proprio una fotocamera che madonna mia cosa mi dovrebbe significare questa questa corsa credo sia una corsa non lo so sta correndo non ho capito cosa mi dovreva eh i numeri e quindi ah questo è è russo mi sa la lingua di dei russi ok ho vinto ma sono un mostro solo horror prova non avere paura challenge se no regole spegni la luce e io già ce l'ho spenta non nasconderti nei commenti io non sono nei commenti io sono nascosto primo immagini 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 semplici mezzo perché dove sta ok questo è un po' schifo no 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 eh ciao bella addirittura perché c'è una bambola dovrebbe farmi paura beh it sei un po' invecchiato però ciao ma questi sono bambini speciali perché dovrebbero farmi paura è un film questo ma eh bello che cazzo secondo livello gif o gif 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 cosa si dice ditemelo voi ok oh dio addirittura ma ma d'altra volta me lo vuoi farvi vedere guarda guarda c'è un mostro lì non so se l'hai visto che cazzo è perché queste cose dovrebbero fare paura io questo non ho ben capito eh sì bello mi piace freddi un po' invecchiato l'esorcista cazzo è addirittura questo è proprio no cazzo è scp zero minchione ridi 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 se non ti iscrivi loro ti mangiano lo sapevi persone che stai guardando il video lo sai che se non ti iscrivi in questo momento a questo canale arriva sto bambino qua del lo sai che ti ammazza lo sapevi non lo sapevi adesso lo sai video horror ok siamo in un bagno c'è una bambina ciao bambina come stai tutto bene adesso gira un mostro wow addirittura scappa scappa le mani le mani le mani che cadono dal cielo io io in questo momento non so quanti battiti ho magari mi sto cagando addosso e non lo so però io non è che mi sto facendo così tanta paura a me fammi ridere in realtà che cazzo è black out che cazzo devo dirti ok si che cazzo no le mani le mani no per favore non voglio non voglio andare in Brasile per favore bozzo nero per favore non voglio andare in Brasile hai sicuro che hai visto le voci no no che padre con i sottotitoli no con i sottotitoli no con i sottotitoli no signo no con i sottotitoli no mi rifiuto di guardare un video con i sottotitoli oh guarda ci sono dei bambini che c'è un bambino che cazzo cosa dovrebbero significare questi video ma dovrebbero spaventare perché cioè no io forse sono io che sono quello che non fa che non paventare un cazzo proprio questo video di gente che proprio vedendo sto qua che fa tipo oddio ma questa io la conosco a questa perché questa già fa parte di un mio video prossimo questa tizia qua quella la ragazza di porcellana brava si e cazzo lo fai canta canta brava canta che la cantilena è la soluzione alla tutto nella vita dai muovi la mano eh reggaeton vai spuntaito dalla finestra tipo ok si abbiamo capito che muovi la mano e canta non è che ma devi eh ciao si grazie eh ah dopo ok la sposa cadavere la bambola ti vede attenzione no adesso non dormo più perché una bambola eh addirittura ma sembra un meme è un meme questo è un meme ma è un meme è un meme quello ma è un meme come fa a farvi paura un meme un meme ah beh c'è la sedia che ruota la sedia fa ding dong ding dong bella la sedia pure questo è un meme è un meme come fa a farvi paura un meme no 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 io perché devo ciao grazie già ti abbiamo visto io addirittura guardalo guardalo cosa hai guarda eh mi chiamai a nascondino addirittura finito no scappa 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 un pezzo di pane vale vabbè il carnevale a che punto sei arrivato fino alla fine livello extra oh si mi piacciono i livelli extra number one ok 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 siamo in una casa con dei quadri una ragazza che credo sia una ragazza che dorme però tu sei proprio scena che dormi accanto alla porta che moriva il demone che ti mangia tutto oh 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 quello è un peluche mi sa scappa svegliati e scappa adesso spunta slenderman dalla porta chi è ma che è ma io non vedo un cazzo dai ma se non vedo niente ma io come faccio due 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 number two ok 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 quindi cosa mi dovrebbe significare questo si ho capito che se ok questa mi ha fatto paura questa questa mi ha fatto paura lo devo ammettere ho avuto un brivido al cuore per un secondo ok la luce madonna ma mamma fatti un ok e meno una stanza però basta con ste telecamere ma compratevi una telecamera ma compratevi una telecamera al posto di girare con ste telecamere del 1900 dai sedia che si muove troppo forte un'altra sedia che si muove un'altra volta un'altra serie cos'è cazzo sto guardando number five il gran fno la tv cosa trasmettono in tv trasmettono la pubblicità del galbanino mi sembra fa fa oh cosa ha mostrato in tv ballora insetti i bambini ma perché i bambini dovrebbero far paura ehm can go e che cazzo ehm you win you win siiii ho vinto anche questa ragazzi io sono un pro player io sono un pro player nel nel vincere le prova non spaventarti livello uno si che bello guarda il clown ballerino oh 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 io sono un clown sono un depresso cronico a casa sua ehm perché dovrebbe far paura non so non trovo il ma è una ragazzina un po' fatta per non dire altro che sta su eh perché sta roba dovrebbe far paura no vabbè ragazzi cioè se dobbiamo continuare così eh che cosa è ma dai ma non prendetemi in giro questa è una presa per il culo all'intelligenza umana è una bambina morta sta dormendo è pure colpe no 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 ciao ciao bambola come stai? tutto bene anche io sto benissimo la casa bella la casa si ha capito però voglio altro mi piace voglio avere altra cosa eh i boschi i belli boschi però io voglio avere altro ciao si rompono i vecchiati Winnie e Pip no staggantà tigre dai vaffanculo livello 2 minchia soltanto a livello 2 siamo ok andiamo avanti andiamo avanti dai livello 2 livello 2 più facile ok in un bosco perché un bosco terremoto magari oppure no sempre colpa del demole terremoto è un terremoto molto brusco ma si gira eh niente vabbè ragazzi ok registra il sole sarebbe un cazzo di meteorite no 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 ok però dai le telecamere ma cambiate le stete ok pavimento bello il pavimento ciao eh che bella la vita cantiamo tutti insieme in un inno alla gioia mamma mamma che buono il cibo mamma mamma ti regalo il mio ok siamo in un bosco bosco boschetto quello è teddy bear teddy bear un meme morto dal 2015 che adesso si rinfugge eh perché questo dovrebbe farmi paura no 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 perché mi spiegate perché una foto di carlo quinto dovrebbe farmi paura no io mi rifiuto di andare avanti se considerate una foto di carlo quinto una cosa che può fare paura no ok un matrimonio normalissimo si baciano ok questo sale sui tetti ma a caso ma perché queste robe dovrebbero far paura la mia domanda è un po' questa perché c'è delle persone che saltano su dei dei tubi là dovrebbe fare ma è la neve perché la neve fa paura perché la neve fa paura eh sì bello mi sono cagazzato almeno tre volte circa tre o quattro volte ma comunque non fanno paura tre quarti cioè perché una foto di carlo quinto ho visto youtuber che con una foto di carlo quinto oh mio mio oh mio mio un attacco di panico livello 3 livello 3 livello 3 livello 3 stiamo calmi livello 3 nooo eh gli armadietti ma perché degli armadietti che si aprono e si chiudono dovrebbe oh ma chi è questa ragazza signorina come sta volevo chiederle il numero me lo può dare o no guarda scappa oddio vabbè queste le telecamere di sicurezza io queste le accetto ma non potete registrarmi i video nel 2020 con la fotocamera quella che hai fatto tipo quelli di prima cioè ho capito che tal coro perché una ragazza che scappa dovrebbe essere una cosa horror che non si vede neanche quindi ho capito questo questo spavento ok bosco bosco eh bello cose molto interessanti direi ok sì sì però cioè ma veramente dobbiamo continuare per la scienza per la scienza questo è altro oh no 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 basta mi rifiuto di andare avanti ragazzi perché dobbiamo vedere sta cosa perché delle foto di carlo quinto dovrebbero far paura quindi voi fate le vostre conclusioni io sinceramente credo che alcuni fanno un po' cagare in mano tra cui anche io alcune volte non ho mai urlato in realtà in questa prova non ho mai urlato però a volte mi sono un po' cagato in mano però però comunque non è che mi ha fatto paura cioè come fa una foto di carlo quinto farvi paura una foto di carlo quinto io sinceramente mi arrendo nel cercare di sinceramente mi arrendo perché ho capito che sono un pelino esagerate le reazioni dei youtuber perché dubito che cioè per arrivare a foto di carlo quinto oh no è carlo quinto adesso muoio di epilessia impossibile quindi il video finisce qui se vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi anche perché è totalmente gratis mettete like se il video vi è piaciuto mettete dislike se il video non vi è piaciuto se il video non vi è piaciuto